Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra conferenza stampa di vigilia di Mr. Massimiliano Allegri e Danilo. Come sempre chiedo di presentare voi la vostra testata e iniziamo con le domande per Danilo. Iniziamo da JTV. Con che spirito deve scendere in campo domani la Juve contro il Befica, consapevole che è una gara molto difficile? Domani dobbiamo scendere in campo con l'espirito di che dobbiamo vincere la partita, non ce n'è un altro. E' chiaro che quando si dice vincere pensiamo che dobbiamo uscire lì e in cinque minuti vincere la partita. Non è così, la partita dura 95 minuti, ogni tanto 100. E sappiamo che dobbiamo essere equilibrati, dobbiamo fare una gara intelligente, però con il spirito di che alle 21 quando comincia la partita dobbiamo vincere il punto. Ciao Dani, Giovanni Albanese Sport Italia. Tu che sei uno dei leader di questo gruppo ti chiedo a che punto siete nel percorso di crescita, come va l'inserimento dei nuovi e se vi manca ancora qualcosa per raggiungere quel livello che dovete per fare la differenza sempre. Grazie. Sì, ci manca sicuramente perché sennò sarebbero state tutte le vittorie queste ultime partite che abbiamo fatto e purtroppo non è stato così. Però siamo in un punto dove sappiamo che dobbiamo migliorare, sappiamo che dobbiamo ancora crescere, però sappiamo anche che abbiamo nella nostra testa che non abbiamo troppo tempo per imparare, non possiamo aspettare un mese o due mesi per imparare. Quindi, come ho detto già l'altra volta, dobbiamo imparare già da domani, dalla prossima partita, non possiamo regalare un tempo come abbiamo fatto contro la Salernitana, perché in questo livello è difficile dopo recuperare, perché anche il Benfica è una grande squadra, ha grandissimi calciatori di qualità e quindi non possiamo sbagliare. Ciao Dani, Romeo Agresti, Goal.com. Ti chiedo, pensi che ormai la tua carriera ti stia portando a diventare un centrale di livello assoluto? Grazie. Sì, sicuramente, sicuramente. Adesso sono un terzino, ma ho giocato tante volte già terzo, anche in mezzo campo, però io mi diverto giocando da centrale di più delle altre posizioni. Ho un posizionamento dove posso avere sempre la palla, posso vedere il campo in una maniera diversa e quindi lì sono appostissimo, ma poi il mister mi dice dove giocare. Ciao Danilo, Giorgio Musto di calciomercato.it. Ti chiedo se la partita di domani è già decisiva per il passaggio del turno e poi cosa temi di più del Benfica? Grazie. Scusa, cosa hai detto alla fine? Cosa temi di più del Benfica? Grazie. È una partita difficile e decisiva sicuramente, come sono tutte, però domani ha un'importanza diversa perché non abbiamo vinto la prima partita e sappiamo che domani non vincere sarebbe una cosa non buona per noi. Quindi è una partita decisiva, dobbiamo affrontarla con grandissima responsabilità, con grandissimo impegno, però senza troppa pressione. Come ho detto, secondo me è uno dei secreti del calcio e di queste partite è cercare di sfruttare anche, sai che è un momento importante, sarà una serata di Champions comunque, una serata bella dove aspettiamo che i nostri tifosi siano qui, ci appogliano, ci spingono sempre a fare un metro in più, una scivolata in più. E quindi dobbiamo, chiaro, con tanta responsabilità, però cercare di sfruttare anche questa serata. Ciao Fabiana della Valle, Gazzetta dello Sport. Bonucci nel dopo partita con la Salernitana ha parlato anche di mentalità, della necessità di ritrovare appunto il DNA della Juve, tu che ormai sei uno dei senatori. Volevo sapere se c'è stato un confronto, poi se vi siete parlati e quali sono magari i tasti su cui avete battuto di più. Questo è un pensiero, quello che ha detto Bonucci, che condividiamo tutti. Sappiamo che dobbiamo fare un passo in avanti sulla nostra mentalità, su quello che facciamo durante tutta la partita e quindi non c'è niente di polemico su quello che ha detto Bonucci. È chiaro che ci confrontiamo non solo in questa partita, ma spesso, perché è così, è solo così si può diventare una squadra forte, è solo così si può, secondo me, fare un passo in avanti e poi avere le vittorie che ci richiede la Juve. Grazie. Danilo, buona tarda, Alessandro Albuquerque da RTP. Gostavo di fare una domanda, che conhecimenti è che ti ha passato ai giocatori sui benfica e cosa pensa della squadra portoguesa? Molto obrigado. Grazie, è un'ottima vero. O Benfica è una grande squadra, posso responder in portoguese? O Benfica è una grande squadra, con una storia incredibile, apesar di essere del Futebol Clube del Porto, è una squadra che io respeito molto, ha avuto grandissimi giocatori, e questa squadra in specifico ha giocatori come Neres, Rafa Silva, João Mário, che hanno grande qualità, giocatori di esperienza come Otamendi, che ha una storia nel futebol abbastanza riconosciata. Il treinatore conseguiu, di una maniera rapida, implantare le sue idee, implantare il suo gioco. Quindi, amanhã, certamente, sarà un giorno che bisogna stare nel nostro migliore, per poter venire la partita. Ma, per esperienza nostra, da equipe, per aver già affrontato le equipi portuguesi negli ultimi anni, sappiamo che, di nulla maniera, possiamo pensare che il gioco possa essere facile. Ciao Danilo, Cristiano Corbo e il Bianconero. Secondo te, dov'è che la Juve ha più margini di crescita? Dal punto di vista atletico-fisico o dal punto di vista proprio mentale e caratteriale? Grazie. Atletico-fisico non direi, perché è una squadra che corre, è una squadra che non mola, che prova a vincere, anche se qualche volta andiamo un po' sotto il livello che ci richiede le partite. però, secondo me è chiaro, mentale, possiamo sempre migliorare, perché i grandi campioni sono quelli che sono forti mentalmente, quelli che affrontano ogni partita con la stessa mentalità, con la stessa cattiveria. e poi, secondo me, il calcio è talmente parecchio che dobbiamo migliorare sempre tatticamente, sempre ci sono cose che si possono migliorare, come muoversi in campo, come vedere le giocate, come mettersi per ricevere un pallone, un passaggio, secondo me la strada è quella, lo sappiamo, condividiamo tutti all'interno della squadra gli stessi pensieri, le stesse idee, quindi la strada è quella. Gianluca di Nostampa, volevo chiederti, se c'è una spiegazione sul perché Leventus non riesce ad essere continuo per 90 minuti, cioè spesso volentieri si gioca un tempo, a volte anche meno di un tempo, secondo te perché? Grazie. Difficile trovare una risposta per questa domanda, però, come ho appena detto, secondo me è una cosa che dobbiamo migliorare e fare un passo in avanti mentalmente, secondo me, come ho detto, i grandi campioni, le squadre che vincono sono quelle che riescono a mantenere una linearità nelle prestazioni che poi ci avvicina di più alle vittorie, quindi, secondo me, è quello che dobbiamo fare, riuscire ad avere una mentalità lineare, ad avere una maniera di affrontare ogni partita, ogni momento delle partite nello stesso modo, e questo ci farà sicuramente fare questo passo in avanti. Ciao, Alessandra D'Angiora, eSport. Hai parlato di spirito e anche delle cose da imparare. Allora, con che spirito arrivate a questa partita dopo quel finale con la Salernitana e invece cosa avete imparato dalla gara di Parigi? Con lo spirito giusto, quello che è, quello spirito di responsabilità per una gara importante come sarà domani. E poi, dopo Parigi, secondo me, principalmente secondo tempo, ci ha lasciato una cosa che è troppo importante, che è dobbiamo crederci, dobbiamo credere nel nostro lavoro, nelle cose che prepariamo, perché abbiamo dimostrato che poi Parigi è una grandissima squadra, però anche noi possiamo fare delle cose grandi. Ciao Danilo, Emanuele Gamba, Repubblica. Volevo chiederti, tu che conosci bene il calcio portoghese, come mai spesso le squadre portoghesi mettono in difficoltà quelle italiane se non è che sono più preparate al calcio internazionale delle nostre? Finisco la domanda, e se, siccome il Benfica è una squadra che gioca a quello che si è visto a ritmi molto molto alti, se questo fatto per voi può essere un problema visto che non sempre riuscite a reggerli. Grazie. Non solo le squadre italiane, le squadre portughese riescono a mettere in difficoltà le squadre anche di altri paesi perché sono veramente squadre di qualità, squadre che sono abituate a giocare la Champions League, a avere delle grandi serate. Poi se è una squadra che gioca con grande intensità saremo anche noi. Questa è la risposta. Bene, grazie. Grazie Danilo. Passiamo alle domande per Mr. Massimiliano Allegri. Enrico Zambruno di Juventus TV. Un giorno mister. Come sta la squadra? Se recupera qualcuno? Com'è un po' la situazione della Rosa? Se può fare il punto? Grazie. Allora, abbiamo recuperato Di Maria. Non so se lo schiererò dall'inizio o meno perché ha fatto solamente un allenamento con la squadra. Scesni sta finendo l'allenamento e quindi potrà essere a disposizione però lo saprò solamente quando rientrerò dopo la conferenza. Alexandro sul rigore dei domenici ha avuto un problemino sull'adduttore quindi valuteremo se sarà a disposizione per quella di domenica a Monza. Rabbio e Locatelli sono out. Quindi siamo abbiamo questi giocatori fuori e abbiamo recuperato Di Maria. Ciao, buongiorno mister Allegri per SIC la televisione portoghese. Lei qua ha già giocato anche contro squadre portoghese mi ricordo il Sporting e il Porto in Champions. Qual è la sua opinione su questo Benfica che comunque arriva da 11 vittorie in 11 partite? Innanzitutto il Benfica come società ha una storia europea importante. Sono abituati a giocare queste partite. È una squadra fatta di bravi giocatori. È una squadra che l'allenatore tedesco gli ha dato anche molta aggressività. viene da 11 risultati positivi. Domani è una partita non decisiva ma importante e quindi per ottenere il risultato quello della vittoria bisogna fare una prestazione da squadra come compattezza stare dentro la partita e avere poche ammenesie perché poi in Europa le paghi a caro prezzo. Buongiorno Mister Nicola Gallo Mediapason le chiedo se la squalifica che avrà domenica prossima è l'ottimo momento attraversato la spinge a schierare Milik in coppia con Vlaovic o se questo è legato anche alla decisione da prendere su Di Maria? Dovrò valutare perché ho anche un dubbio a centro campo e quindi domani mattina poi deciderò da farsi però direi siamo bene abbiamo e stiamo recuperando le energie per la partita di mercoledì domani sera. Un po' riggio Mister Giovane Albanese Sport Italia approfitto della presenza di Danilo per chiederle se la difesa 3 può essere più che un'idea per domani ma in generale una soluzione per tutta la stagione grazie. Dipende dalle caratteristiche dei giocatori in questo momento a seconda della partita possiamo difendere costruire a tre a seconda della partita ci metteremo a quattro a Parigi abbiamo iniziato un modo abbiamo finito un altro domenica sera abbiamo iniziato un modo abbiamo finito all'opposto quindi poi dipende anche come si svolge la partita come difendono loro comunque non è una questione di tre di numeri è questione di sapersi muovere e andare a cercare di spazi. buongiorno mister Sergio Baldini tutto sport ho visto a parte le partite con Sampdoria e Paris Saint Germain secondo me la Juve ha sempre fatto piuttosto bene il primo quarto d'ora 20 minuti compreso domenica sera con la Salernitana poi dopo questo periodo si è sempre come spenta dopo essere andata sotto con la Salernitana altre volte dopo essere andata in vantaggio c'è un problema nel tenere la concentrazione una difficoltà nell'adattarsi quando la partita cambia rispetto a quella che avete preparato inizialmente non so cosa può essere è una cosa che ne abbiamo parlato e bisogna lavorarci perché bisogna trovare un equilibrio l'equilibrio dove sta dove sta che quando c'è il momento come magari l'altra sera non riesci a far gol è un momento che non devi subire il gol e non è vergogna se finisce il primo tempo 0-0 l'importante è che in quei momenti lì non devi subire gol noi abbiamo subito uno poi ne abbiamo subito addirittura uno a tempo scaduto della fine del primo tempo lì la squadra non deve perdere non deve andare in agitazione in un stato d'ansia perché magari ha subito un gol perché magari è un momento dove la squadra avversaria prende il sopravvento perché ci sta perché le partite poi si sono lunghe quando riesci a se riesci a far gol bene ma quando non riesci a far gol non è detto che perché non hai fatto gol devi subire il gol e su questo noi bisogna trovare un equilibrio come quando andiamo in vantaggio bisogna continuare a giocare invece nelle partite dove siamo andati in vantaggio in alcune ci siamo un po' fermati Fabiana della Valle Gazzetta dello Sport io volevo chiederti di Quadrado che è quello che ha giocato tutte le partite titolari finora è sembrato un po' in calo se è tra i tuoi dubbi per la partita di domani con Alexandro fuori di esterno Quadrado e De Ciglio e Danilo qui accanto a me che può fare terzino può fare centrale può giocare a centro campo quindi meno male ce l'ho Sì mister Cristiano Corbi il bianconero ha parlato di agitazione dei momenti comunque concitati della partita si è dato una spiegazione di questa agitazione perché la squadra non riesce a reagire immediatamente dopo l'imprevisto guardiamo la cosa positiva che c'è questa voglia di fare che ci porta a strafare ma nelle partite non bisogna strafare bisogna solamente fare perché le partite sono lunghe e non possiamo abbiamo questa voglia di strafare perché abbiamo la voglia comunque di cercare di andare vincere le partite in 10 minuti quarto d'ora cercare di fare due gol e invece non è così perché del carcere non è così è impossibile capitano anche queste cose ma non è così e quindi in quei momenti lì noi bisogna avere equilibrio noi la partita dura 95 minuti abbiamo 95 minuti di tempo a disposizione per vincerla e quindi questo ci deve rassenenare perché nel momento in cui non riusciamo a far gol non è che lo dobbiamo prendere l'ho detto prima ecco dove è l'equilibrio la forza della squadra la sicurezza in se stesso e credo che sia anche una roba ambientale perché ci spazientiamo troppo presto e invece non è così perché vincere le partite è difficile e a volte si vincano anche al novantesimo al novantaduesimo perché comunque ci sono gli avversari perché c'è qualcosa che le cose ti vanno al contrario perché succede anche quello non è che però in quei momenti lì bisogna giocare da squadra Salve mister Giorgio Musso di Calciomercato.it le chiedo come sta vedendo Vlaovic negli ultimi tempi e in cosa deve comunque migliorare in campo grazie Vlaovic l'ho visto bene sta migliorando in quelli che sono i aspetti che deve migliorare come dicevo già l'anno scorso ma sono molto contento di come sta facendo Dujan come ho detto Dujan dei giocatori chiamiamoli giovani o con minore esperienza internazionale insieme a Alland e Mbappé è uno dei tre migliori Oddenino Stampa ma tornando sul discorso dell'agitazione ma non è un po' un paradosso considerando che questa è una squadra esperta che ha tante partite e che sa gestire anche delle partite grazie abbiamo diciamo che abbiamo un'esperienza in tanti giocatori ma abbiamo anche dei giocatori che hanno poche partite in Champions poche partite nel campionato italiano poi comunque giocare alla Juve non è semplice siamo sempre sotto pressione siamo sempre con la voglia di vincere con questa spinta dall'esterno che ci fa da un lato ci fa bene però è normale che sotto questo aspetto bisogna migliorare tanto Bremer è la seconda partita domani che gioca in Champions credo è quindi è un giocatore è un acquisto straordinario che ha fatto la società però a livello esperienza è la seconda parte di Champions quindi le pressioni a livello psicologico io credo che noi stiamo lavorando bene è normale che vorremmo avere risultati diversi in campionato ci mancano dei punti quindi questo dispiace però abbiamo tutto il tempo per recuperare ora domani invece bisogna pensare a una partita difficile complicata che non è decisiva ma molto importante buongiorno è bene ma dall'altro è un male quindi di squadra i risultati si raggiungono sempre di squadra anche nelle difficoltà perché non è che nell'arco della carriera che diciamo fortunatamente ho avuto e che avrò va bene ci saranno momenti di difficoltà durante la stagione durante le partite ma io mi ha visto a parte abbiamo visto anche tutte le partite 3-0 4-0 ma non è che tutte le partite vinci 3-0 4-0 sono le partite in cui vinci 1-0 sofferenza il novantesimo il calcio è fatto di questo però l'importante è la prestazione che va migliorata Buongiorno mister Marco Conterio Tutto Mercato Web a freddo di quel che è successo sul finale della partita con la Salernitana soddisfatto di quella che è stata la risposta dell'AIA di quelle che sono state le polemiche che si sono scatenate la mancata sospensione di Marcenaro e Banti qual è il suo pensiero a riguardo? Io non ho mai espresso giudizi sugli arbitri non sta a me esprimersi su niente per me l'argomento è chiuso domenica sera quindi l'unica cosa non so se sarò squalificato o meno domenica prossima io credo che per l'allenatore sarebbe meglio fargli pagare una multa anche salata così facciamo della beneficenza a chi ne ha bisogno è però la domenica dopo deve essere in campo questo credo che sia una cosa su cui dovrebbero un po' riflettere perché comunque in questo momento magari fare anche una raccolta dove ci mettiamo dentro i soldi e le multe comportamenti sbagliati antisportivi che abbiamo durante l'anno e magari aiutare chi ne ha bisogno ultima domanda grazie ecco Max buongiorno Alessandro Bocci Corriere della Sera proprio a questo proposito mi sembra che gli allenatori siano partiti bene con le espulsioni ce ne sono tante ecco siamo solo alla sesta giornata ma tu ti sei dato una spiegazione perché non è riferito solo a te ma Sarri che ha fatto quello che ha fatto ci sono altri due Gian Paolo che ha dato l'ha detto lui coglione all'arbitro ecco ci sono parecchie situazioni c'è troppo nervosismo cos'è perché comunque è il precariato della panchina che porta questo forse perché fa caldo ancora secondo te qual è il motivo dove può darsi che fa un po' di caldo ogni tanto un bagnetto al mare ci vorrebbe però detto questo io parlo per me stesso io sicuramente domenica ho avuto una reazione sbagliata però era il 93esimo insomma e quindi e mi dispiace quindi più che una squalifica sarei stato più contento se mi avessero fatto pagare una multa grazie da mandare non da tenerli grazie buona giornata a tutti buona giornata grazie 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 grazie